Ciao, buongiorno, mi chiamo Andrea Chiapasco, 26 anni e sono un attore. Mi sono diplomato ormai tre anni fa all'Accademia dello Spettacolo di Torino, dove ho avuto modo di studiare non solo recitazione cinematografica, ma anche recitazione teatrale. Io sono sempre stato fin da piccolino un grande appassionato di cinema e di film, fin quando non ho capito che quello che mi piaceva particolarmente dei film erano gli attori e la recitazione. Allora ho iniziato i primi corsi di recitazione amatoriali, poi crescendo, da più grande mi sono deciso a fare un'accademia professionale, mi sono diplomato, finita l'Accademia ho subito iniziato a lavorare, soprattutto nel teatro, ho fatto tanti spettacoli che mi hanno dato la possibilità anche di girare la nazione e dal punto di vista cinematografico ho fatto un cortometraggio da protagonista, un cortometraggio da coprotagonista più dei progetti minori e io personalmente amo tantissimo questo mestiere, sono, come dicevo prima, un grande appassionato in primis. Quindi continuo a studiare anche per conto mio, continuo a fare workshop, a fare masterclass in giro per tutta Italia. L'ultimo che ho fatto è stato con Massimiliano Rossi. Vi faccio vedere le mani. Grazie mille per la vostra gentile attenzione, vi auguro una buona giornata.